Passiamo ora allo sport con la Bartocini Volley che si conferma regina del mercato, messi a segno altri due colpi in vista di una stagione la prossima dalle grandi ambizioni. Sentiamo Lorenzo Materazzini. Non è un mistero che la Bartocini Fortinfissi Perugia stia preparando la nuova stagione con grandi ambizioni. Ecco perché patron Bartocini si è buttato la grande sul mercato e dopo Melli, Diop, Guiducci, Diuff, Guerran, Waka, Lorbauer e Bongers assesta altri due colpi pesanti. Si tratta di Immacolata Sirressi e di Laura Melandri, nell'ultima stagione rispettivamente libero e centrale di Casal Maggiore. Appena sono arrivata ho visto un ambiente caloroso, persone solari e ho avuto delle bellissime sensazioni. Ho scelto Perugia perché mi è piaciuto da subito il progetto e credo sia una squadra che può ambire a un buon posto in classifica. Si guarda dunque alla nuova stagione con rinnovato entusiasmo e una squadra quasi del tutto inedita. L'obiettivo minimo è fare meglio della stagione precedente, comunque positiva. Toccherà al nuovo tecnico Luca Cristofani trovare la formula giusta per una squadra sulla carta già molto competitiva. Sarà una squadra bella aggressiva, spero, così almeno questa è la mia idea. E niente, poi si vedrà tutto sul campo. Ci sono tantissime giocatrici di altissimo livello e quindi io sicuramente credo che i playoff siano una meta fattibile. Poi la posizione dimostrerà il campo quale riusciremo ad ottenere. Vi aspettiamo numerosi al Palabarto. Ciao! Ciao!